Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. I carabinieri di Pergola hanno arrestato un uomo intento a rubare all'interno di alcune automobili in compagnia della figlioletta di appena 5 anni. E come sentirete dal servizio è stato fondamentale l'intuito della moglie di un carabiniere. La bambina aspetta poco distante mentre regge una bicicletta da adulto e lui ripulisce le auto parcheggiate. Ma questa volta è andata male da un trentenne moldavo in vacanza a Pergola dalla nonna della bambina di 5 anni, figlia della compagna. A smascherare l'uomo è stato l'intuito della moglie di un carabiniere che insospettita dall'uomo che scrutava l'interno di un'auto fuori da un supermercato non ha esitato a chiamare i colleghi del marito che sono subito intervenuti cogliendo sul fatto il moldavo con ancora addosso il portafogli rubato poco prima dall'auto. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e nella mattinata di oggi portato davanti al giudice Di Pesaro che ha condannato il moldavo a sei mesi d'arresto con pena sospesa e la bambina affidata alla madre previo accordo del Tribunale dei minori di Ancona. C'è stato un tentativo di furto questa notte alla ferramenta Arturo Mancini attorno alle 4.40. Le telecamere di videosorveglianza collegate con la centrale operativa della Vigilar hanno individuato un furgoncino all'interno della struttura con i portelloni aperti e due persone intente ad armeggiare lì attorno. L'operatore della centrale ha subito allertato la guardia giurata che si trovava in zona e il 112 dei carabinieri ma all'arrivo dell'operatore della Vigilar i malviventi non c'erano più mentre il cancello era visibilmente manomesso. Adesso invece parliamo delle opere compensative dell'A14, l'autostrada A14. Nei mesi scorsi abbiamo dato spazio alla rabbia dei proprietari terrieri, questa volta invece parliamo di nuovo di questi espropri ma dando la buona notizia che il Comune è riuscito a far modificare alla società autostrade alcuni dei tracciati. Vediamo in questi due servizi di che cosa si tratta. Effettuare in corso d'opera modifiche ad un progetto già in fase esecutiva è un percorso difficile e lungo ma ci siamo riusciti. Con queste parole l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi ha annunciato l'avvio dell'ITER attraverso una delibera di indirizzo del Comune di Fano per rispondere alle aspettative dei tanti proprietari che hanno vibratamente protestato nei mesi scorsi per tante situazioni che li vedeva fortemente penalizzati dalle opere compensative della società autostrade. Tutta l'ITER sulle opere compensative si era conclusa per quello che riguarda il progetto e abbiamo già portato in giunta le modifiche parziali al tracciato che tengono conto di tutte le esigenze che sono state manifestate, io ripeto giuste. Però ecco ci tengo a sottolineare che questo è grazie al lavoro che il sindaco, l'assessore e il dirigente hanno fatto con tutti gli enti i nostri viaggi a Roma hanno portato a questo risultato che è in etinere, allungherà leggermente i tempi però il risultato sarà importante e soprattutto non andrà a ledere le persone, non andrà a ledere anche tutta una serie di spazi e compresi anche quelli pubblici. Queste variazioni che hanno già ricevuto il benestare di società autostrade, provincia e regione verranno entro la prossima settimana sottoposte ai diretti interessati che dovranno, condizio sine qua non, impegnarsi a non opporsi all'ITER procedurale sugli espropri. La prima cosa che bisogna dire è che se non c'è il consenso delle persone che saranno espropriate in più o in meno, in pochissimi casi, però comunque se non c'è il consenso delle persone noi non possiamo procedere a fare queste modifiche perché l'opera è già stata autorizzata in tutto e per tutto e l'occupazione è già stata fatta. Quindi ovviamente se non c'è il consenso della gente noi non possiamo andare avanti perché i tempi diventerebbero talmente lunghi che creeremmo un danno sull'autostrade la quale si riserverebbe poi di chiederci indietro dei soldi. Sono stati individuati dai tecnici del comune sette interventi che si possono effettuare. Vediamo quali sono con l'aiuto delle planimetrie che ci consentono di vedere in blu il progetto originale ed in giallo le modifiche proposte ai cittadini. Partiamo da nord, quindi dalla strada che va a Carignano e qui abbiamo previsto un piccolo spostamento dei rotatori in maniera tale da rendere più agevole la vita a questa famiglia e poi abbiamo alleggerito questa curva che è la curva che sale verso la zona di Belgatto. Questa è una modifica che prevede anche il ristringimento della rotatoria. Il secondo intervento è Rosciano. Questa è l'autostrada. Questa è la sottovia che collega la località Forcolo, la zona Codma, con Sant'Orso. Questa rotatoria verrà leggermente ristretta e questo accesso sarà fatto in maniera differente in modo da risparmiare terreno. Questa è la strada di Cerbara, il proseguio di via Soncino, quindi Sant'Orso. Queste sono le ultime case di Sant'Orso e questa rotatoria verrà leggermente spostata e ristretta in maniera tale da poter allontanare il più possibile e non intaccare la recinzione di questa casa. Qui il blu è il progetto originario, il giallo è quello che verrà realizzato? Sì, il blu è l'originario, il giallo è la modifica che noi chiederemo. Questa è un'altra modifica abbastanza importante. Qui ovviamente la scala fa un po' la differenza, per questo è un tratto di strada molto lungo, che collega via Mattei, che è questa, quindi la strada dell'aeroporto dove c'è la sede dell'Aset, con questo rotatore che si trova proprio a ridosso dell'autostrada. Quindi qui cambiamo leggermente il tracciato in questa parte di territorio, mentre qui lo cambiamo in maniera un po' più drastica, cercando di non passare in mezzo a questo campo. Qui siamo invece, questa è via Papiria, questa è via Mattei, che adesso si interseca in una sorta di mezzo, diciamo, di innesto a T, diciamo, in curva. Era prevista una rotatoria più verso mare, tra l'altro in mezzo prevedeva anche, come dire, di occupare l'area di un pozzo. Abbiamo cercato di stare più vicino al canale, cercando un po' di diminuire la rotatoria e credo che anche per evitare interferenze con, diciamo, il pozzo e con l'Enel. Questo è l'intervento, diciamo, più discusso, più, come dire, che ci ha impegnato, tra virgolette, perché mentre nell'altro intervento, tutto sommato, si modifica leggermente, diciamo, le aree espropriate, anzi si restringono in alcuni casi, quindi porta un vantaggio alla popolazione, che è dai residenti. Qui invece si cambia proprio la filosofia. Questa è la strada che sale verso le camminate, dove qui c'è l'impianto di compressione di Snam Rete Gas, quindi che passa sotto poi l'autostrada. Questa rotatoria viene rimpicciolita e spostata un po' più verso Monte e di conseguenza cambia anche il tracciato per permettere di arrivare con una rotatoria subito, diciamo, nella fase terminale del ponte, della strada, che va verso, che dalla Tombaccia va verso San Costanzo, verso l'entroterra. Quindi sarà un rilevato alto due metri e mezzo circa, con una rotatoria comunque importante di 42 metri, che quindi andrà, come dire, a liberare un po' una situazione qua, diciamo, verso la parte terminale di Tombaccia, via dalla Tombaccia è questa, e comunque garantiamo, vorremmo garantire un accesso su strada di mezzo. Ancora cronaca, uno scontro frontale tra due auto sulla strada pergolese in località Pianaccio, nel comune di Mondavio, si è verificato questa mattina intorno alle 12.30, per causa ancora da accertare in corrispondenza di una curva già teatro in passato di altri incidenti, una panda che procedeva in direzione Marotta, condotta da un uomo di Senigallia di 68 anni, si è scontrata violentemente con una polo che procedeva in senso opposto, guidata da una donna di San Lorenzo in campo di 64 anni. Il 118, intervenuto sul posto, viste le condizioni della donna, ha attivato l'elisoccorso che l'ha trasportata al Torrette di Ancona, mentre ha disposto il trasporto dell'uomo all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano per liberare dalle portiere incastrate i due conducenti e poi la Polizia Municipale di Mondavio per i consueti rilievi di legge. Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale inesploso e ancora in buone condizioni è stato ritrovato in un campo arato in località Falcineto di Fano nel pomeriggio di ieri a ritrovare la granata da mortaio. È stato Lucio Bevilacqua con il suo metal detector mentre scandagliava un campo fuori dal centro abitato in località Torno. L'area è stata interdetta e messa in sicurezza dagli uomini del commissariato di Fano mentre l'ordigno bellico è stato transennato in attesa dell'arrivo degli artificieri. Spesso le immagini di videosorveglianza sono state decisive in alcune indagini di polizia. Ora il comune di Fano ne piazzerà altre in diversi punti della città. Vediamo quali. Santorso e la zona del Pincio presto avranno un grande fratello che sorveglierà su di loro. Il comune di Fano continua nell'opera di installazione delle tantosannate telecamere per monitorare punti di accesso alla città e luoghi sensibili. I prossimi due siti coperti da occhi elettronici saranno Santorso e Porta Maggiore ma in progetto ci sono anche i varchi della Gimarra, la Statale 16 e la Flaminia in modo da coprire tutti gli accessi e le uscite dalla città individuando così oltre che veicoli privi di assicurazione o revisione anche auto coinvolte in vari reati. Il nostro comando ha preparato un progetto sulla sicurezza con la presione di telecamere che controllano le entrate e le uscite nella nostra città perché noi sappiamo benissimo che le telecamere sono strategiche per le indagini e per un controllo completo del territorio. È un piano che mancava che noi abbiamo dotato di cui abbiamo dotato la città. Questo piano prevede il controllo di entrata e uscita di tutti i varchi della città. Le telecamere a Ponte Metauro hanno consentito di individuare recentemente anche un pirata della strada che dopo un incidente si era dato alla fuga. A questo proposito Polizia Municipale e Amministrazione portano avanti da tempo il progetto Adotta una telecamera che consente ai privati di sostenere i costi di installazione ma di aumentare la propria e l'altrui sicurezza. Un progetto molto interessante perché tutela la sicurezza attraverso il sistema informatico di telecamere telecamere intelligenti che sono in grado di leggere le targhe di trasformarle in messaggi telecamere che funzionano anche da perfetta video sorveglianza e oltre al varco che è già stato individuato si intende realizzare gli ulteriori varchi si intende anche realizzare il punto strategico di porta maggiore e soprattutto si intende anche rilanciare la progettualità dell'Adotta una telecamera dove cittadini aziende istituti banche possono partecipare per la propria sicurezza per la sicurezza e anche collettiva oltre che propria quindi la Polizia Municipale è a disposizione per fornire per fornire ogni dettaglio rispetto al progetto adotta una telecamera da parte del privato e l'interesse di oggi e quindi torniamo a parlare di solidarietà perché anche il comune di Saltara con il gruppo comunale di protezione civile ha voluto dare il proprio contributo e sostegno alla popolazione terremotata del centro Italia colpita appunto dal sisma Allora tra le tante iniziative a favore delle popolazioni terremotate non è voluto venire meno anche il vostro comune cosa avete organizzato? Sabato 8 ottobre a Calcinelli abbiamo organizzato una tumbola di beneficenza il cui ricavato è stato dato alla scuola di Arquata del Tronto è stata un'iniziativa che è organizzata dal comune di Saltara con il contributo dell'istituto complessivo Leopardi del nostro gruppo di protezione civile Bocciofi la Metaorense e con il contributo di tutte le associazioni ditte e commercianti locali a questa iniziativa c'è stata una partecipazione massiva di gente più di 450 persone molti alunni un ringraziamento ai docenti dell'istituto complessivo Leopardi che sono andati da fare per vendere i biglietti e abbiamo alla fine fatto un buon ricavato il ricavato finale è stato di 5.000 6 euro e 60 centesimi che in questi giorni verranno mandati tramite modifico all'istituto comprensivo di Arquata del Tronto la preside ha mandato una lettera di ringraziamento lettera dallo speaker nella serata in cui ci ringrazia per la nostra iniziativa per la solidarietà rivolta nei loro confronti e per questa bella iniziativa Voi siete stati presenti anche in quel comune come gruppo di protezione civile Sì siamo stati dopo il 24 agosto siamo stati sul campo tre volte in tre turni diversi grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha consegnato un mezzo per un fuoristrada 4x4 per recarci nelle zone terremotate quindi abbiamo visto anche personalmente i nostri volontari la sofferenza di queste persone ma anche la voglia di ripartire subito e di ricominciare Oggi e domani si discute a Fano del futuro del Carnevale Questo Carnevale storico riconosciuto in tutta Italia per l'importanza oltre che avere una grande valenza culturale sociale e economica per il territorio di Fano ormai sempre più deve riscoprire una grande opportunità dal punto di vista della promozione turistica e allora è chiaro che la regione Marche sui grandi eventi oltretutto che sono fatti fuori stagione questo diventa importante per far diventare le Marche attrattiva da questo punto sicuramente vuole essere vicina e vuole essere presente dobbiamo mettere a disposizione della presidenza dell'associazione tutta un'opportunità che permetterà di avere un respiro almeno pluriannale ecco su questo dobbiamo lavorare la regione per quello che riguarda la sarà attenta e vicina a creare progettualità che possono essere allo stesso tempo opportunità lavorative e di grande promozione su questo sicuramente c'è l'impegno di tutta la giunta regionale in particolare il primo modo mio del presidente Ceriscioli ci abbiamo messo un po' a stilare questo progetto perché i progetti hanno bisogno di tempo e forse qualcuno ha pensato che in questi momenti di silenzio noi non lavorassimo abbiamo lavorato tanto perché adesso abbiamo un obiettivo quel progetto da poter portare a termine con un passetto alla volta con tutta l'umiltà possibile con l'aiuto di tutti però adesso abbiamo un progetto che vediamo che riscontra molta positività anche nelle aziende stesse che fino ad ora avevano magari delle reticenze perché delle aziende a livello nazionale magari non hanno interesse a promuovere i propri prodotti a livello locale se invece riusciamo a sfondare le mura augustee come diceva qualcuno prima e anche le grandi aziende avranno interesse ad essere con noi a sostenere il nostro carnevale perché saranno loro stesse se diventiamo forti a voler partecipare e a voler aiutare il carnevale di Fano Domenica torna a Fano Corre Memorial Lamberto Tonelli un appuntamento sempre molto atteso dagli appassionati di podismo però attenzione per chi abita nel centro storico in zona mare perché dalle 7.30 di domenica mattina c'è il divieto di sosta un divieto di sosta che durerà per gran parte della mattinata di domenica e più precisamente dalle 7.30 alle 11.30 circa un divieto di sosta che interesserà diverse vie però in particolare via Mura Malatestiane via Nolfi via Montevecchio via Le Colombo e via Le Adriatico quindi soprattutto i residenti che abitano in quella zona in quelle vie domenica mattina o sabato sera devono ricordarsi di non parcheggiare lì l'automobile perché già dalle 7.40 verranno fatte spostare con il carroattrezzi ok e adesso vediamo la dichiarazione su questa iniziativa e poi saluti allora ancora quest'anno ricorre il trofeo a Tonelli pensate di coronarlo con una corsa anche quest'anno certamente certamente domenica è vicinissima il ritrovo per tutti è domenica 23 ottobre alle ore 8 del mattino in piazza 20 settembre inizieremo alle 9 con i bambini e i ragazzi con medaglia ricordo e succo completamente gratis per tutti i partecipanti poi alle 9.30 finalmente spazio agli adulti con fermatissimo chiaramente il percorso con partenza e arrivo in piazza 20 settembre faremo città poi mare lungomare Sassoni e di nuovo in città con il soggettivo passaggio sotto l'arco d'agosto ci sarà la possibilità di percorrere un giro quindi 5 km oppure due giri per un totale di 10 km comunque alla fine ricco buffet per tutti i partecipanti ci saranno tanti camminatori che vengono non solo dalle Marche ma anche dall'Emilia Romagna dalla Toscana per passare insomma una bella giornata in allegria invitiamo chiaramente tutti a partecipare le iscrizioni si possono fare al momento invitate anche i familiari amici, i bambini per passare appunto una giornata in allegria nelle varie attività collaterali previste e invitiamo anche a rimanere poi a pranzare in piazza nei vari locali aperti per l'occasione sicuramente domenica Lamberto farà un bel sorriso da farò correre buone corse ed è tutto grazie per averci seguito arrivederci